Eccola, la Retribution. Casa dolce casa. Siamo qua giù solo da un giorno, Solta. Beh, preferisco stare lassù. A chi lo dici? Rains ha parlato di un certo E3N. Mai sentito? Negativo. Il nostro Rayman a quattro stelle sa sempre stupirci. Volerà alla cerimonia insieme a noi. E vedi di non chiamarlo così. Mai, in sua presenza. Fatti largo. Questa parte, tenente. La divisa ha i suoi vantaggi. Abbiamo un volo in partenza. Ed ecco il caccio a torpedigliere. Eclipse, una nave di classe 1. Missile D-X costruita a sera. Alla gente piace questa roba. Pubbliche relazioni, Reyes. È solo propaganda. Abbiamo perso quattro uomini e siamo qui a festeggiare. Abbiamo le mani legate. Per oggi rilassati un po', Reyes. È un ordine. Non puoi darmi ordine. Abbiamo lo stesso grado. Hai vinto tutto, tenente. E quello cos'è? Credo sia il nostro E3N. Affermativo. Sotto ufficiale di prima classe E3N. Android e tattico. Terza revisione. Un nome altisonante. Davvero? Chiamami Ethan. Quali sono i tuoi ordini? Assegnato alla Retribution, agli ordini di Odder. Sei fatto per combattere? Sì, tenente. E per uccidere. Sembra uno che ci sa fare con le armi. Così però mi metti in imbarazzo. Non serve, Ethan. Mi fai sentire vecchio. Benvenuto, ammiraglio. Bene. Ora ci conosciamo tutti. Possiamo decollare. Roger, ammiraglio. Roger, ammiraglio. Recevuto. I crowbiscotramo sulla Vengeance. Recevuto. Reve 6 a Vengeance. Top get a bordo. Arriviamo. Recevuto 6. Vengeance in attesa. È riuscito a tenere Ethan ben nascosto, ammiraglio. Odder lo sapeva. È il primo modello. Avanzatissimo. Lo sveleremo alla cerimonia di oggi. Ho un po' di panico da palco. Provi sentimenti? Sì, tenente. Proprio così. Ho il cervello di un contadino umano. Cazzo, dici sul serio? No, per niente. La fregata, tenente. Non è vero. Oggi i Yatis fanno gli straordinari, eh, ammiraglio? Per forza, tenente. Mai a passare la guardia. Conosci quei sistemi di contraerea, Ethan? Proteggono la Terra. Letali. Vengeance qui Raven 6. Fasi di approccio finale. Ricevuto sei. Vengeance in attesa. Ammiraglio? Che c'è, Ethan? I cannoni Yatis. Sembrano puntare la nostra flotta. Attenzione! Pilota colpito! Ci penso io! Vieni da lì, via! Niente, è fuori controllo! Arrivano delle navi a sui piacere! Attenzione, colpi sparati all'attore di controllo Yatis. Ripeto, colpi sparati! Top 10 sobre. Riasciliare a schierare tutte le unità disponibili. Non è un'esercitazione. Prepararsi all'impatto! Attenzione! Senniore! Rai! Nick! Sto bene! Grazie